Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano e abbiamo creato una società che si chiama Genoleggia. Mancava a Genova una società di questo tipo, i prezzi del noleggio si stanno sempre di più abbassando, le offerte sono sempre più interessanti, con canoni che sono abbordabili a tutti. Noi serviamo sia le aziende, quindi le partite IVA, sia i privati, nonché poi ovviamente liberi i professionisti. Perché la macchina noleggia lungo termine? Perché sai quanto paghi, hai un canone fisso tutti i mesi, dentro il canone fisso ci sono tutti i servizi, quindi non dovrai più preoccuparti di assicurazione, di bollo, di manutenzione, di manutenzione straordinaria, di incidenti, non dovrai più preoccuparti del cambio delle gomme, le invernali e le estive, perché il proprietario della macchina è il noleggiatore. Abbiamo costituito una società per azioni, quindi una società importante, ha visto dal notaio 22 soci che credono in questo modello distributivo e che faranno di tutto per trovare una soluzione per la mobilità di cui avete necessità. Vorremmo spiegarvi i vantaggi, qualcosa potete già trovare sul nostro sito che si chiama genoleggia.it e vi invito di andare a vederlo e giracchiarci un po' per vedere le offerte e per vedere qual è la fiscalità per i professionisti, per esempio, per vedere quanto costa una macchina, quanto devo spendere ogni mese e magari darci una telefonata per avere un preventivo per il veicolo che più vi interessa. Valutatela perché sicuramente per il futuro questo è un qualcosa che rivoluziona il mondo del trasporto.